sono queste le settimane cruciali per la battaglia per contenere il contagio da coronavirus al nord dove sono nate le prime zone rosse quasi un mese fa e nel resto d'italia dove si sta tutti a casa dal 12 marzo una sfida che coinvolge il paese intero una vera e propria chiamata le armi dove ognuno deve fare la propria parte a che punto siamo e quando ne usciremo speciale presa diretta mercoledì alle 21 e 20 rai 3